Francesca Tocca non bala al serale di Il Gossip sulla presunta seconda gravidanza. Francesca Tocca è incinta per la seconda volta del marito Raimondo Todaro, secondo alcune voci circolate su Twitter dopo la prima puntata del serale di Amici. La risposta sarebbe sì. La ballerina professionista è entrata in studio ma non si è esibita per l'intera serata. Come invece ha sempre fatto gli altri anni. In più, alcuni utenti hanno notato un pancino sospetto che farebbe pensare proprio a una seconda gravidanza. Dopo la nascita della piccola Jasmine. La prima puntata del serale di Amici è andata in onda sabato 18 marzo. Durante la serata. Che ha visto l'eliminazione di Megan e Ndg, c'è stato anche un guanto di sfida tra i professori delle tre squadre. Vinto da Rudizio Erbi e Alessandra Celentano, che si sono esibiti con un simpatico omaggio al giudice Cristiano Malgioglio. A portare il premio in studio è stata proprio Francesca Tocca, da anni ballerina professionista del programma e nella vita privata compagna del coach Raimondo Todaro. Al suo ingresso, alcuni utenti su Twitter hanno notato un pancino sospetto sotto il vestito nero, che appariva più stretto proprio all'altezza della pancia. In più, ad alimentare le voci di un secondo bebè in arrivo. Ci sarebbe il fatto che la ballerina non sia esibita per tutta la serata con nessuna coreografia. Ad esempio, al suo posto, ad accompagnare Mattia Zenzola nel passo a due c'era l'ex allieva Benedetta. Eliminata un passo dal serale, a cui è stato offerto un contratto per la fase finale del programma. Secondo alcuni, questo sarebbe un ulteriore indizio dell'impossibilità di Francesca Tocca di ballare, probabilmente perché è in dolce attesa. Ad alimentare ulteriormente le voci ci ha pensato la pagina Twitter Amici News, che ha pubblicato una chat misteriosa risalente al 4 marzo, in cui si legge, Francesca Tocca incinta. Per il momento, la ballerina non si è esposta a riguardo e nemmeno il compagno Raimondo Todaro. Smentendo o confermando la notizia, non resta che aspettare anche le prossime puntate del serale. Per sapere se la vedremo di nuovo ballare o se ci saranno annunci importanti. Per sapere se la vedremo di nuovo ballare o se ci saranno annunci importanti. Per sapere se la vedremo di nuovo ballare o se ci saranno annunci importanti. di nuovo ballare o se ci saranno annunci importanti. Per sapere se la vedremo ballare o se ci saranno annunci importanti. Suntere la video di nuovo ballare o se ci saranno annunci importanti. Al prossimo punto, la passere un appartamento. Grazie a tutti